Se voi volete provare con questo esercizio, piate pure una penna e un foglio e così lo vedrete con noi. Per accompagnarci in questo lavoro oggi, abbiamo obiettivo di avere con noi scolari di origine uvese, di una seconda bislingua di origine uvese, formati alla lingua corsa da nostro professore Cecilia Lanfranchi e accompagnati oggi da nostro professore Julien Comelli. Allora Paolo, non c'è il suo testo qui? Qual è la difficoltà o la qualità o i rivetti di questo testo che non possiamo parlare per piacere? Prima, innanzitutto, ci voglio dire che ci sono un testo semplice, è un testo poetico, ci sono i versi, c'è una pronunciazione che ci vuole rispettare, c'è un ritmo particolare. Intanto che ciò che ho detto, ciò che ho visto, mi pare che non è rispettato, ho fatto che sia una poesia e ho fatto che in più ci sono certe parole, che non sono mica così comune. Natale, allora, teni un po' il microfono, abbracci la occa. Come sei passato sull'evitato? Era abbastanza facile, perché in cui i professori avevamo realizzato un po' i godi dia, quindi era facile. D'accordo, hai lavorato abbastanza bene. Vabbè, non avevi mica troppa pressione. Ci ritroviamo durante le sei vestiti di Natale per fare questo esercizio insieme con i vostri bene e i vostri vogli. A presto.